Dopo, nella valigetta, quella d'alluminio, sulla destra, in fondo a destra, vedi che c'è una batteria. Dopo, se riesci, me la porti. No, no, no. Eh? Ciao! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.